Sarei vicina a queste situazioni, a questi avvenimenti? Beh, penso che sia importante, il premio Magna Grecia è un premio molto bello. Sono contenta di essere qua e devo dire che è sempre un piacere venire dalle vostre parti perché l'accoglienza è pazzesca, poi insomma spero che vi piaccia questa serata. C'è un'immagine della Puglia che non è particolarmente nel cuore? Beh, le immagini della Puglia, ma sono tantissime, non è una sola perché la Puglia è tante cose, beh, a parte gli scorci pazzeschi, sia a livello di mare o di montagna, fa la bellissima musica che viene qua, da qua da reti, ma volare è partita dalla Puglia, mi sembra un'ottima fotografia. Una serata di beneficenza per cui il tuo ha un contributo importante? Ma io sono qua fondamentalmente per sostenere quelle che sono le dinamiche artistiche e sono molto contenta di far parte di questo pubblico. Perciò non vedo l'ora di incontrare anche gli altri e rendersi un vino, va bene, siamo amici da un sacco di tempo, però anche qua di Santa Maria, sono contenta di far parte di questo pubblico, diciamo, di questo abitato, assolutamente. Grazie.